Buongiorno, sono qui in vacanza, mi sento molto male e ho bisogno dell'aiuto di un medico. Posso fissare un appuntamento? Buongiorno, all'assicurazione medica? Certo, ho comprato un'assicurazione di viaggio per tutta la durata del viaggio. Aspetti un minuto, chiederò al medico se accetterà di riceverla. Le sarei molto grato. Sarà ricevuto oggi. Posso chiedere la sua carta d'identità? Ottimo. Prego. Grazie. Si sieda per favore e prendere posto in coda. Signori, chi è il prossimo in fila? Io. Prego. Entri per favore. Buongiorno. Buongiorno. Si sieda. Che succede? Ho un dolore forte allo stomaco e alla testa, inoltre, non ho appetito e ho la tosse. Da quando ha questi sintomi? Da due giorni. Capisco. Ha vomitato? Sì, ho vomitato ieri sera e da allora sento anche il dolore dei muscoli. Ha notato altri disturbi? Mi sento molto debole e ho difficoltà a concentrarmi. Bene. Innanzitutto devo chiederle. Ha qualche malattia cronica? Prende farmaci abitualmente? No. Ho problemi di pressione, ma l'ho misurata oggi e di valori erano normali. Capisco. Le misuro la temperatura. Ha la febbre. Ecco perché si sente debole. Il termometro ha mostrato 39 gradi. Si alzi e sollevi la maglietta. Esamino la sua pancia e ausculto i polmoni. Bene. Le fa male? No. Ok, può sedersi. I polmoni e i bronchi vanno bene. Non c'è nulla di preoccupante nemmeno nell'addome. Grazie. Probabilmente è un'intossicazione alimentare con cibo locale. Le scriverò una prescrizione. Per favore compri questa medicina e la prenda due volte al giorno, al mattino e alla sera. Se dopo tre giorni i sintomi persistono, la prego di contattarmi telefonicamente. Dovrei fare qualcos'altro per sentirmi meglio? Si riposi a letto oggi, beva molta acqua e mangi dei pasti semplici e facilmente digeribili. La febbre dovrebbe passare dopo la prima dose di medicinale. Grazie per il suo aiuto. Prego. Può ritirare la sua prescrizione presso la reception. Certo. Arrivederci. Arrivederci. Vorrei ritirare la prescrizione. Prego. Allego anche un biglietto da visita, dove troverai il numero di telefono del medico. Grazie mille. Arrivederci.